La gente mi chiede, perché rischi la morte? Per me, questa è la vita. Dovunque andassi e qualunque cosa facessi, ero sempre in cerca del posto perfetto dove sospendere il mio filo. Si comincia. Avanti, scattare, zona rossa! Questo è estremamente illegale, per non parlare del pericolo. Ho la testa piena di dubbi. Quando dovrò salire sul filo, non so se ce la farò a fare il primo passo. Quello è matto e si vede. Un minimo passo falso. E morirà Eddie. Grazie. Grazie per la visione!